Un post redatto con un criterio ragioneristico, la nuova censura al nuovo piano operativo sanitario di Toma arriva dall'altissimo Molise, nello specifico da Don Francesco Martino, da anni impegnato in difesa dell'ospedale locale San Francesco Caracciolo. Le note positive per quella struttura arrivano dal reparto di medicina, la cui pianta organica è stata recentemente potenziata con due medici. Anche il reparto di alisi, altra unità nevralgica, sta lavorando a pieno regime. Sul POS, entro gennaio, sarà pieno, presterà assistenza a 18 pazienti. Le dolenti note per il presidio agnonese dal laboratorio analisi e sul fronte dell'emergenza. Rimangono le solite criticità, bisogna risolvere il problema del laboratorio analisi. Se effettivamente questo ospedale deve continuare a rimanere, ci deve essere almeno un laboratorio di urgenza, come prevedeva il vecchio POS e anche il decreto che fece l'adinnocenso in merito all'ospedale di Agnone, che prevedeva un laboratorio di urgenza. Non penso che si possa andare avanti con un point of care per il pronto soccorso nelle ore notturne che sta dando diversi problemi e non penso che alla fine si possa fare clinica senza un laboratorio di analisi, almeno giornaliero, nel nosocomio. Ha avuto modo di visionare il nuovo POS che ancora deve essere approvato? La soddisfa questo documento oppure ci sono delle problematiche? Il POS è molto ragionieristico, cioè si basa unicamente sui dati del DM70 e anche sui dati e sui numeri. Quello che per quanto riguarda Agnone, quello che è preoccupante è la previsione a pagina 160 della trasformazione in casa di comunità. È un argomento già stato attenzionato da altre forze politiche e sul quale occorre fare chiarezza. Quello che è importante capire ed è fondamentale capire che anche per quanto riguarda l'assistenza territoriale, la previsione di infermieri di comunità ogni 3.000 abitanti per l'Alto Molise è disastrosa. Di qui l'appello a Commissario Toma e ai parlamentari molisani di provare a migliorare la situazione in cui versa la sanità molisana direttamente al tavolo di Roma sul DM70, il regolamento sugli standard dell'assistenza ospedaliera. Un appello a Roma è ancora aperto il tavolo sul DM70 per la sua revisione. Io pregherei tutti i parlamentari del Molise, pregherei il governatore Toma, pregherei tutti di operare lì. Il tavolo è ancora aperto, non è stato chiuso. Non perdiamo questa opportunità.